Non vogliamo partecipare per il gusto di partecipare, vogliamo vincere. Mauro Scarpitta, attuale consigliere indipendente d'opposizione, candidato a sindaco di Carmignano per il centro-destra, suona la carica in vista della sfida elettorale del prossimo 5 giugno, che lo vedrà contrapposto a Edoardo Prestanti, attuale assessore all'ambiente e al sociale, candidato per il centro-sinistra, e Andrea Bassini del Movimento 5 Stelle. Stamani la presentazione della sua lista, composta da giovani e pensionati, pratesi, poggesi e carmignanesi, tutti alla prima esperienza amministrativa, iscritti o comunque vicini a Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord, i tre partiti che appoggiano la candidatura di Scarpitta, che comunque ribadisce la propria connotazione indipendente. È una lista di cittadini, una lista di persone che lavorano, una lista che rappresenta quindi il popolo di Carmignano. Non è una lista che rappresenta i poteri forti, non è una lista che rappresenta grumi di interessi, non è una lista di funzionari di partito. E questo ci tengo perché è una lista appoggiata dai tre partiti del centro-destra, che si sono ricompattati dopo qualche vicenda così, un po' tipica delle campagne elettorali, ma è una lista che è aperta anche a tutte le realtà del territorio. Tre gli aggettivi che descrivono la Carmignano di Scarpitta, sicura, attiva e italiana. La mia provenienza dalla destra sociale mi consente di andare a trattare, credo con una certa forza, anche temi che un tempo erano della sinistra. Oggi effettivamente trovare la sinistra è anche piuttosto complicato e trovarsi alla sinistra del PD credo ci sarebbe riuscito anche Malagodi.